no 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 lasciatela bruciare mi ricevi? non ti vedo prendimi la mano forza prendimi la mano mia nonna aveva ragione l'uomo nero era reale è finita non potrà più fare male a nessuno non te l'hanno detto? detto cosa? c'è qualcuno? michael myers è vivo ti prego no ferma ti hanno infilato un coltello in pancia tu e Allison non dovreste continuare a scappare il male muore stanotte toglie la sicura non me ne starò qui a guardare mentre muore un altro innocente guardate dove sono le sue vittime è una freccia che indica la casa d'infanzia di Michael che facciamo? combattiamo diamogli la caccia michael myers è fatto di carne e sangue ma un uomo non sarebbe sopravvissuto a quell'incendio più uccide più si trasforma scappate andate via un male allo stato puro fallo fallo vuoi la tua maschera? vieni a prenderla sto venendo a prenderti Michael grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti